Allora, è il momento dello sport, abbiamo in studio il nostro Massimo Profeta per fare il punto di questa settimana, per il Pescara che si avvicina alle sfide decisive per la griglia dei play-off, in particolare per salvare dall'assalto delle pretendenti questo terzo posto che sembrava sicuro, almeno fino al turno pasquale. Si torna in campo domenica contro il Monopoli? Sì, grazie Carmine, si torna in campo domenica contro il Monopoli alle 17.30, naturalmente la Pescara giocherà in casa, insomma terzo posto in questo momento a rischio, questo è il quadro completo degli incontri, in programma domenica tutte le partite si giocheranno, questo va detto e ribadito, le ultime due giornate, lo stesso giorno e lo stesso orario, quindi 17.30 domenica e poi la domenica successiva sempre alle 17.30 quando la Pescara chiuderà a Picerno, è quello uno scontro diretto. Allora, il Pescara affronterà il Monopoli, mentre per quanto riguarda le altre rivali il Foggia sarà di scena a Catanzaro, Catanzaro che ha 93 punti, insomma setata di primati il Catanzaro, la squadra di Vincenzo e Vivarini, 98 gol realizzati, probabilmente avrà altri stimoli per portare a termine questo campionato, magari vincendo anche contro il Foggia se lo augurano i tifosi della Pescara, ma intanto il Pescara deve fare il suo, deve battere il Monopoli, non è un ostacolo insormontabile, c'è anche il Cerignola che affronta il Latina e il Picerno che sarà di scena sul campo della Virtus Francavilla. Diamo uno sguardo anche alla classifica per capire meglio come stanno le cose, perché abbiamo detto a Taranto è stata una delusione, insomma, Biancazzuri non pervenuti, soprattutto, insomma, succede questo quando non pareggi la carica agonistica dell'avversario, quando pensi, soprattutto, magari di aver già vinto prima di scendere in campo, era già accaduto a Missina, però il Pescara rimane, Carmine, arbitro del suo destino, possiamo vedere la classifica, Pescara con 59 punti, Foggia 58, quarto posto, e poi Picerno e Cerignola appaiate in quinta posizione con 56 punti. Il Monopoli ha 51 punti, in piena zona playoff, ha cambiato per la terza volta allenatore, questo è il terzo allenatore, Giacomo Ferrari, in realtà era il vice di Pancaro, destituito dall'incarico qualche settimana fa dopo la sconfitta interna, partita con il Giuliano 3-1. Il Monopoli, che ha 5 punti di vantaggio sul Latina, che è ottavo, è a meno 5 da Cerignola e Picerno, insomma, non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, però il Monopoli è in crescita, ha vinto le ultime due partite, ogni partita, poi lo sappiamo, ce lo dice la storia, fa appunto storia a sé, anche se mi sono ripetuto, però è un gioco di parole, ma è giusto ribadirlo e sottolinearlo. E' chiaro che il Pescara deve fare il suo, deve vincere questa partita e poi deve vedere quello che è successo sugli altri campi, prima dell'ultima giornata di campionato. Rientrano Brosco e Milani, erano state due essenze, erano due essenze importanti, quella di Taranto sicuramente, quella di Brosco che è il capitano, è stato promosso capitano da Zeman, che l'ho avuto anche nel 2011-2012, una cavalcata triunfale che portò i Biancazzuri in serie, rientra Milani a sinistra, non ci sarà Crescenzi, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, ancora ai margini, naturalmente Pizzari ne avrà per altri 20 giorni, per una forte distorsione della Caviglia, patita proprio nel primo tempo del match con la Virtus Francavilla, alti e bassi, Carmine. Il Pescara ci ha abituato purtroppo in questo campionato, fatta eccezione per la prima parte con Colombo, le prime 14 partite, 11 vittorie, due pareggi, soltanto una sconfitta con il Crotone, poi dopo, o meglio, con la sconfitta interna patita ad opera del Catanzaro, da lì abbiamo assistito ad un altro campionato. Il Monopoli, abbiamo già detto, è una squadra che, anche il Monopoli, insomma, andamento altalenante, perché avrebbe dovuto fare di più la squadra pugliese, tre allenatori, ha cominciato la terza, poi Pancaro, che conosceva perché in Abruzzo ha giocato anche nella Vezzano, prima di calcare ribalte prestigiose, insomma, ha vinto tantissimo nella Lazio, soprattutto nel Milan, ex giocatore della Nazionale, poi sostituito da Giacomo Ferrari. La curiosità, Giacomo Ferrari ha sempre fatto il secondo, per la prima volta è allenatore, diciamo responsabile della prima squadra, tre partite e due vittorie, è stato un calciatore, un centravanti di buon livello, ha anche vinto un campionato di Bia Modena, tre presenze nel 2002-2003 con De Biasi, allenatore in Serie A, e ha fatto un gol, ha segnato un gol al Pescara quando militava nell'Alzano-Virescit, stagione 99-2000 in Serie B, quella partita finì 4-3 per l'Alzano-Virescit contro il Pescara di Galeone, Alzano che era allenato da Foscarini. Bene, un'ultima riflessione, Massimo, il Pescara ha mostrato in queste ultime due partite di essere poco capace di adattarsi al gioco degli avversari, ecco, sotto questo aspetto la partita di domenica che tipo di gara somiglierà più alla precedente oppure a quelle con il Catanzaro e quell'altra? Sulla carta no, sulla carta dovrebbe essere una partita tranquilla, tra virgolette, niente tranquillo in questo campionato perché tutti gli avversari devono essere affrontati con la massima concentrazione, però il Monopoli è una squadra che adesso, come dice la classifica, 5 punti di vantaggio sull'ottava, meno 5 dalle squadre che sono appaiate al sesto posto, vale a dire Cerignola e Picerno, eccola qui la classifica, quindi è in piena zona playoff, ci sono altri 180 minuti da giocare. Non ci sarà il camion di Capuano davanti all'area dirigente? Non credo, però ecco, non mi fido anche perché l'allenatore è nuovo, ripeto, da tre partite è un 4-4-1-1, molto scolastico, quello che è stato disegnato da Giacomo Ferrari nelle ultime partite di campionato, ha cambiato sistema di gioco, io presumo che sarà, cioè il Monopoli se lo avrà a giocare a viso aperto, ecco.